E' Geo ma siamo messi proprio un po' ma so presto per andare a fare un'altra parte qui... Si, ma non è un'altra parte... No, ma sono tedesca... E per conto mio si può fare... Si ma in bici come fai a portarlo a casa? Non lo possiamo in due Comunque qua... Io ti ho detto una roba... E tutti gli amici di Borgo Venezia che se ne riconosce qua che siamo benvenuti a passare Per via Montorio praticamente che vale... Entriamo in pratica in Borgo Venezia alta Beh, ho solo un piacere che potete in Borgo Venezia... Mi riconosce così da Marco si conoscemo... Avevamo una birra insieme... E su qua che è il stadio della Virtus? Eh, speriamo che quest'anno vuole mezzo dell'anno scorso... Magari vi sei promossi... Ho capito che ci sono Verona... Si si si... Sempre bene a Verona... Si beh... Che posti meglio... Noi scoprono la palla... Noi scoprono la palla... Noi scoprono... Oh Geo... Scorda me... Siamo qua che avvisiamo... Rosolino e la Pellegrini... De... De... C'è che barbe chiudiamo la mattina... Eh? Noi scoprono... Si... Eh... Beh... Vieni qua che suoniamo... E... Mi mi pare giusto di dire... Lo butto... Casomai sentiamoci del rosolino che viene qualche festa... Tanto che lo dici... Ma... Se mi muove il Max... Si si... Max... Dio caro male tardi... Le 1 e un quarto... Eh... Non mi sentire forse... Gara musicale... C'è... Che cazzo è? Eh... Si... Ciao Max... Sono Geo Lynch... Ascolta... Vento domani... Barbecue... Cazzo Geo... È la 1 e un quarto... Eh... De notte... Ma domani mattina... Vento... Geo... Ho gli allenamenti domani mattina... Che cazzo... Di suoni quest'ora... Dai... Eh... Domani... Rimanda... Dati... Influenza intestinale... Tante volte... Vi inventa sempre più... E poi ormai ti sei speciale... Dai... Vento maniare... Per Nicola... Salamera o no? Dio buono Geo... Dai... Lascia stare... È troppo tardi... Chiama... Chiama Federica piuttosto... Federica... Lei in America... Ti ormai... Non ti hai visto che figura che ti hai fatto... Dai... Andiamo... Lo so Geo... Però... Sono stanco... Dai... Lascia stare... Domani ti chiamo io... Ti chiamo cellulare... Eh... Vabbè... Basta che ti vieni... Non ti preoccupare... Eh... Lo sai che non manco... Quando c'erano le tue feste... Ah... Una roba... Eh... Porta le russe da quell'altra volta... Un'altra volta? Si... A te... Le russe... Va bene dai... Ciao... Buonanotte... Ciao... Ciao... Ciao Max... Ciao... 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 Oh Geo... Anche... L'alba... Bisogna che... Mi torse il barbecue... Sento... Certo... C'è... All'arriva il grande momento... Mettiti su la prima roba... Che tecati... Perché qua... Mi sembra tanto pare sottile... Che sarà... A sporcarsi... Che sarà... A sporcarsi... Che sarà... A sporcarsi... Che sarà... A sporcarsi... C'è... Mi ricona... Si... G Onun.... Geo che è un casino di gente, saranno tutti venuti per la scala? Sì, signor Sky, paradossi... Adesso vediamo... Speriamo dai, incrociamo le ditte... Sì, è una roba americana... Americanata... Ho visto a correre, ho visto a correre anche... Sì... Vediamo tutti i tavoli... Comunque abbiamo trovato che c'è... Bisogna vedere se ci rispettano il diritto di prelazione... Vabbè... Un minuto... Io l'ho fatta... Scortè dalla polizia... Marco Geo Lynch va sempre controcorrente... Sì, sì... Ci sono anche le parole... Ci sono anche le parole... Oh... 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 Ecco... Per qui che non vi credeva mia... Ah, Geo... Eh sì, che l'ho fatta... Guardate che scorteremo le qua... Sì... 20 minuti di lavoro... Sì... Cerchiamo di avere... Eccolo qua... Guarda... Adesso... Se ne venisse dando a mano a qualcuno... Sì... Quando... Quando c'è bisogno... Potete... Non si fa mai vedere qua... Sì... Sono cambiato... Vincere a mangiare... Vincere a mangiare... Vincere a mangiare... Vincere la birra... Dai... Adesso... Facciamo il colpo di magia... Stacco... E lo vedete da montare... O facciamo anche qualche fase... Vediamo... Come... 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 Geo... Ti senti a buon punto... Ma... Manco... Bette... Un bicicletto di birra... Vincere... 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 Iale... Che ti lavori tutto spiano... Ehm... Mi saluto... La fai... Iale... Il Geo... E... Il vostro amiche... Sono riusciti a montare... Barbecue... E adesso... Non ce n'è più per nessuno... Però... Geo... Qui è il momento delicato... Ci sono due bombole... E quindi dobbiamo dare... L'addio ai fan... Perché potrebbe essere... L'addio potrebbe essere l'ultima volta... Che facciamo un video... Ecco... Perché non sono... Non abbiamo nessuna conoscenza... In merito... Per cui... Ultimo ghiacciolo... Si si... Geo... E adesso... Se non... Avrete più noti... Beh... Probabilmente non vi vedrà neanche questo video qua... Beh... Anche quello... Oh... Se vedete il video... Tutto bene... Diversamente... L'ultimo video che ho fatto... Guardi la data... È l'ultimo... Ok... Questo è il nostro addio eventualmente... Parola al vento... Però... È meglio una vita da leoni... Che... Senza pegua... Ecco... L'accensione... L'accensione... È venuta con successo... Per adesso... Se non stoppiamo a parlare adesso tipo Challenger... Ragazzi... Guardate la fiamma... C'è tutto... Sta andando... Meravigliosamente... Quindi... Adesso... È il tempo che si... Rodino... Si dice... Rodarsi... Sì... Le griglie... E poi... La festa avrà inizio... Pista della sigaretta... Geo... Ciao ragazzi... Ciao a tutti... Per le liste... Lista Geo... Tommy più due... Vieni con me... Amor... Sul grande raccordo anulato... Che circonda la capita... E nelle soste faremo l'amor... E se nasce una bambina poi... La chiameremo... Roma... All'uscita... 25... C'è... Aurentina... Bruno l'infame... Ha cambiato gestione... Il prosciutto è più buono da Sergio... Dietro la piazza... Ma non te fa lo scontrino... All'uscita dell'Aurelia c'è... Casalotti Boccea... Fai la conversione... E c'è il tabacchi notturno... Sei chiuso giù al controviale... C'è il distributore... Che te frega il resto...